unboxing numero 10 è arrivato un altro pacco dal libraccio purtroppo mi hanno eliminato due libri a cui tenevo molto ci mettono un sacco di tempi io faccio l'ordine tipo un mese prima il libraccio mi dice che il libro è disponibile poi quando fanno il pacchetto dopo due settimane mi dicono l'articolo non è più disponibile l'abbiamo eliminato passano altre due settimane l'articolo non è più disponibile l'abbiamo eliminato e poi dopo un mese mi mandano tutto pazienza ho tempo per cercarne altri non c'è non c'è fretta in questo senso ma siccome sono senza occhiali mi metto gli occhiali perché non trovo più eccolo qua prendo l'arma del delitto il tagliacarte e apriamo questo pacco arrivato dal libraccio e poi ci sarà e poi ci sarà anche un'altra sorpresa lo sapete non faccio montaggio in questi video e quindi videocadalinghi fatti per quelli che devono essere tra l'altro sto usando non si vede ma qua sotto c'è il microfono yeti blu perché ho avuto problemi con l'avalier che mi vedevate di solito e quindi sto usando questo in presa diretta lo registro sul sull'imac con audacity particolari tecnici di cui non ve ne frega niente ma siccome questi sono video così e non sono fatti per essere video abbottonati ma sono video fatti per chiacchierare in amicizia e libertà vi dico anche queste informazioni di cui non ve ne frega niente iniziamo con la fissa di questo periodo perché è inutile quando io trovo qualcosa che una garanzia c'è poco da fare mi ci butto a pesce e non mollo finché non mi viene un'altra mania in questo caso polillo il cerchio rosso di edgar wallace wallace insomma è un nome che associato alla storia del giallo mondadori dall'inizio all'inizio erano quasi tutti i gialli di edgar wallace io ne ho letto un po tempo fa abbastanza un po di tempo fa quando pendolavo molto come si dice quando pendel col pendel tog col pendolino con un treno che passa da una città all'altra o con l'autobus c'era quasi un'ora di di viaggio andare un'ora tornare quindi leggevo come un disperato quindi molti di questi libri li ho letti ma non ve ne parlo sono letture troppo vecchie e non sono in grado di farvi un'analisi come si deve comunque il cerchio rosso di edgar wallace uno dei libri famosi più famosi di edgar wallace che io non mi ricordo neanche se ho letto perché questi gialli così alla fine sono tutti un po come vi posso dire sono tutti gli gialli basati sul plot e quindi non mi rimangono in mente per qualcosa di particolare come la scrittura mentre i libri che veramente mi rimangono in testa lo fanno per un motivo per un motivo preciso ancora un altro dei bassotti il numero 25 questo l'ho preso perché speravo di riuscire a leggerlo per il periodo di natale ma non ci riuscirò perché sono 370 pagine comunque si chiama delitti di natale chiaramente una raccolta di racconti probabilmente in questo caso ac bailey nicolas blake marjorie blowing agatha christie john collier o collier non so chi sia inglese forse collier joseph commings carter dixon cioè john dixon car di cui vi ho parlato poco fa in un video sulle tre bare fergusium gaio marsh ellery queen chiaramente ellery queen vi ho parlato anche di ellery queen vi ho parlato di ellery queen che libro ho letto da poco sto perdendo colpi come un demente ma dimmi tu la tragedia di x che arriverà mary robert rinart dorothy sayers lillian della torre etelina white e cornell warrich cornell warrich basta di per sé magari di questo vi leggerò mi leggerò un poio di racconti e ve lo porterò come video di natale vediamo non lo so polillo polillo come se non ci fosse un domani un altro jc masterman tragedia a oxford questo l'ho comprato non avevo idea di che sia l'autore perché ragazzi nel giallo classico e non solo ci sono una miria degli autori io non sono vissuto nell'epoca del giallo mondadori quando il giallo mondadori vendeva come un pazzo sono libri che leggeva mia nonna ero troppo piccolo ma piano piano con i bassotti e con altri acquisti usati o in ebook come capita sto recuperando un po di roba ma l'ho presa perché tragedia oxford con oxford io non resisto per via di colindexter speriamo che sia una cosa buona non ho idea di cosa sia questa masterman cecil john cecil masterman nato nell'891 e morto nel 77 nella quantia inglese del surrey e insomma vediamo se dice christ church college di oxford non riesco a trovare niente che mi colpisca ma vedremo prima o poi sono libri che prima o poi leggerò oppure che avrò qua nella mia libreria perché un libro è sempre meglio averlo che non averlo ecco qua questo è un libro che vi porterò perché un libro troppo importante dal punto di vista storico del giallo in assoluto e questo è un libro che stavo veramente veramente inseguendo e finalmente ho trovato nella nell'edizione usata del libraccio ovvero john ball la calda notte dell'ispettore tibbs di cui hanno fatto chiaramente il film famosissimo con spencer tracy e sydney poattier quindi la calda notte dell'ispettore tibbs una pietra miliale della letteratura gialla e non solo perché insomma tratta del problema dei neri del razzismo tra l'altro john baller un bianco qui in un romanzo di cui vi parlerò per forza non so quando arriverà perché la programmazione coi romanzi ce l'ho occupata quasi fino a gennaio se non mi ricordo male comunque e sono romanzi che arriveranno voi seguitemi attaccate attivate la campanella registratevi lasciate commenti condividete e così insomma le notifiche vi dovrebbero arrivare tra l'altro questo libro che avevo che mi era stato regalato nella notte dei tempi e che ho ricomprato perché c'è la casa di mia mamma non so se riuscirò mai ad andare a prenderlo se mi ricorderò mai di prenderlo e quindi l'ho ricomprato perché questo libro appassionantissimo che un'intervista sostanzialmente trasformata in libro ovvero il cinema secondo hitchcock di françois truffo due giganti del cinema in particolare hitchcock lo sapete del cinema di suspense che parlano che si intervistano questo libro che ho letto moltissimi anni fa lo volevo avere perché un saggio un saggio sul cinema neanche un saggio sul sul giallo non è sul giallo sul cinema chiaramente per hitchcock è un nome comunque legato al giallo quindi un libro che ci teneva ad avere qua in svezia anche se ce l'ho a cagliari probabilmente addirittura nel mio comodino perché lo tenevo nel comodino e allora anche qua un libro che ho trovato segnalato su un gruppo segnalato si è sentito un po sono sardo no segnalato sul gruppo facebook 50 sfumatori di giallo che io in un video forse in quello dell'errata corrige o in qualche altro video chiamato 50 sfumatori di grigio pensate che cretino che sono queste cose le noto solo quando mi riascolto perché c'ho una certa ragazzi e gli absus si sprecano le ho fatti anche nell'errata corrige della storia del giallo dove dovevo correggere mi ha fatto tanti errori che non correggerò mai più però insomma li vedete da voi insomma ragionateci sopra qualcuno l'ha scritto anche nei commenti quindi va bene così finché si si dicono cretinate sui nomi posso averli sbagliati leggendo posso averli sbagliati pronunciando mi sarò fissato con un nome sbagliato capita capita a tutti i professori delle medie ve l'ho detto in quel video è capitato quindi l'importante è che le cose che vi ho detto che i concetti siano giusti poi se i nomi sono sbagliati ci sono scritti sul video leggeteli non siete non siete così deficienti come me da non riuscire a leggere un nome come si deve quindi voi siete meglio di me li leggete come sono scritti io li sbaglio vi stavo dicendo su 50 sfumatori di giallo questo gruppo facebook dove ci sono delle persone che ne sanno a tonnellate più di me da cui imparo un sacco di cose e chiaramente non si finisce mai di imparare soprattutto quando sapete io un po di dietro scena stiamo chiacchierando io il giallo l'ho letto da una vita però sapete quando uno ha quando uno non scrive intanto e quando uno è molto giovane i libri li usa sono materiale di consumo vero e proprio cioè leggevo un libro dopo l'altro ne ho letto in infinità però non mi soffermavo così tanto a ragionare informarmi a vedere chi fosse leggevo i libri uno dopo l'altro perché amavo e amo leggere mentre con gli anni ho iniziato a appassionarmi anche alle vite degli autori informarmi interessarmi poi col canale col fatto di scrivere ho avuto una lettura diversa ho sviluppato una lettura più analitica più riflessiva e poi ragionandoci sopra per parlare mi sono dovuto informare anche sugli autori quindi un po di cose le sto macinando negli ultimi ho iniziato a leggere diversamente negli ultimi 6-7 anni anche se le spalle ho una marea di letture questo è il problema di alcuni non ve ne posso parlare approfonditamente perché ero un lettore diverso non ero uno scrittore che scriveva con l'intento di pubblicare sono sempre uno scrittore ma gli scrittori casalinghi non sono scrittori poi può essere che uno tiri fuori il diario della persona scomparsa e che poi era una penna bestiale non ha mai neanche provato a pubblicare quelli sono casi letterali editoriali ma siccome io ho sempre scritto sempre da che ho in memoria di me però non ho mai scritto fino a un certo punto della mia vita per scrivere per un lettore di cui una cosa che vi ho fatto un video e che è una cosa molto complessa da spiegare adesso non mi dilungo ma insomma scrivere il proprio diario non è scrivere un libro per venderlo per pubblicarlo in modo che qualcuno lo legga e quindi diciamo che questo approccio alla lettura è relativamente recente anche se quando quando si studiano gli studi che ho fatto io che ho fatto io si sta sempre un po' attenti si si lavora sul testo ho sempre lavorato sul testo però la lettura di evasione come si chiama la lettura per svago per piacere la lettura per proprio piacere per il proprio piacere personale è un altro è un altro tipo di dimensione comunque in questo 50 sfumatori di giallo che vi nomino per la decima volta ho visto questo guida alla letteratura noir che è chiaramente un saggio in questo caso di walter catalano che un nome abbastanza noto adesso non vi so dire esattamente a cosa lo ricollego ma walter catalano dovrebbe essere un nome abbastanza importante ed è anche abbastanza aggiornato costa nuovo 22 euro l'ho comprato nuovo vi dico anche questa magari anche una prima edizione del 2018 del 2018 e qua vedete che c'è anche la donna che visse due volte nella nella quarta di copertina quindi insomma ci sono un po' la daria nera tra l'altro la stessa edizione che ho io ci sono casino totale che la stessa edizione che ho io il the big sleep nell'edizione originale eduard bunker che è quello che è stato reso di fatto famosissimo di cui qualcuno di voi mi ha parlato in qualche in qualche commento eduard bunker è quello che aveva girato le iene con tarantino che era una specie di vero galeotto di vero delinquente che poi si è messo a scrivere insomma pare che sia una cosa molto buona tutto non si può leggere tutto non si può conoscere la vita è una io ho quasi 50 anni questi sono i libri che vi sto portando comunque letteratura noir può essere una lettura interessante sicuramente ci sono i grandi nomi del del noir qualcosa può essere può essere interessante questo me lo guarderò con calma ovviamente scerbanenco e poi insomma qualcosa da qua tirerò fuori magari per i video magari per qualche altro motivo ecco e questo è un libro che stavo cercando che mi incuriosisce molto perché non mi sembra il classico manuale è un libriccino di un'ottantina di pagine descritto da laura grimaldi che è stato uno dei direttori del giallo mondadori di cui tra l'altro vi ho parlato nel video della storia del giallo mondadori vedetevi video della storia del giallo mondadori che stanno facendo numeri vergognosi condivideteli fateli sapere c'è qualche errore ma ho fatto l'errata corrige insomma errata corrige scusate che poi mi mi si critica ho fatto l'errata corrige quindi insomma mi sono costato una valanga di tempo una fatica bestia sono secondo me un buon prodotto non per autologiarmi ma perché veramente non c'è niente su youtube che parli della storia del giallo quindi se vi fa piacere condivideteli e questa laura grimaldi è stata chiaramente una direttrice del giallo mondadori e qua ha scritto scrivere il giallo e il nero e questo è un non credo che sia un manuale di scrittura credo che sia più che altro un saggio una riflessione sul giallo e quindi l'ho preso della dina udino che sapete ho c'ho dei qua sotto ho dei manuali di scrittura che praticamente non leggo mai gli ho sfogliato gli ho leggiucchiato qualche cosa ma non è quello il modo secondo me di imparare a scrivere quelli sono libri di consultazione sono un dubbio se ci sono delle cose che non vuole approfondire va bene ma imparare a scrivere quei manuali ve l'ho già detto questo però essendo laura grimaldi una un'autorità nel mondo del giallo italiano che ha tirato fuori dei grandi nomi vi ripeto una persona importante ero molto curioso di leggere questo libro l'ho trovato e insomma anche questo è una delle letture che vorrei fare chissà quando la farò e qua elen mccloy panico questo sempre dina udino questo l'ho comprato per un motivo perché sempre su 50 sfumatori di giallo mi è stato consigliato più a letto questo post che hanno fatto su elen mccloy e pare che questo sia il secondo bello c'è un altro titolo bellissimo di elen mccloy che era esaurito purtroppo in questa collana della dino audino che si chiama come in uno specchio che i bassotti numero 38 questo il 79 l'ho cercato era in lista l'ho preso ma in realtà era andato esaurito anche quello quindi è stato stralciato dalla lista ma prima o poi l'ho trovato e questa elen mccloy mi istuzzica e mi ispira molto perché chi me l'ha consigliato una persona che ne sa veramente molto di letteratura giallo in un ciclopedia vivente quindi ottime premesse per un altro giallo della dino audino ce l'ho tutti qua sotto tra un po dovrò fare la doppia fila che è una cosa che odio nella mia libreria ma lo spazio in casa è questo uno due tre quattro librerie grandi da 80 due sono da 90 due da 80 e qui c'è questa da 45 e sono piene fino all'orle adesso dovrò mettere dovrò mettere insomma i libri in doppia fila perché se no mi tocca uscire di casa tra l'altro vi racconto questa cosa interessante non c'entra niente ma sono video di chiacchiera ero a lavorare a stromstad a stromstad 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 è una una città sulla costa ovest della svezia che è più vicina a oslo che a goteborg perché siamo sulla costa confine nord con la norvegia e ho visitato un paziente che mi ha detto non mi ricordo come siamo finiti gli ho chiesto che lavoro faceva e mi ha detto che era pensionato aveva tra l'altro 79 anni portati benissimo quasi in pensione a 67 quindi 79 anni 12 anni di pensione e iniziato a fare un'attività che è vendere libri usati e si chiama bookboschen la borsa del libro in svedese che è un sito che funziona così un sito di e-commerce chiaramente uno mette in vendita i propri libri tramite questo provider che sarebbe il sito li spedisce prendi soldi delle spedizioni soldi e tutto quanto insomma c'è un monte denaro che viene utilizzato per le parti tecniche e lui vende questi libri online io pensavo che i libri qua in svezia ti ritirano dietro ci sono nelle bancarelle ci sono dappertutto la gente legge un sacco e tra i posti in europa con il maggior alto maggior numero di lettori per centomila abitanti di lettori forti quindi la svezia una terra di libri i libri sono ovunque sono nelle lavanderie nella lavanderia della peccione lavanderia comunale e condominiale praticamente in tutti i condomini a meno che uno non viva in una casa in una villa in una casa indipendente c'è il condominio la la lavanderia è comune del condominio e fuori da tutte queste lavanderie ci sono delle librerie billi la classica billi che ha quattro ripiani quelle a mezza altezza strapiene di libri che non prende mette lascia riprende perché tutti qua in svezia leggono ed è una cosa bellissima e questo qua sostanzialmente è iniziato a vendere libri usati e mi ha detto che ti raggiunga una cosa tipo 50 mila euro lordi all'anno che vanno ad affiancarsi alla sua pensione gli ho detto 50 mila euro lordi metto sì sì e praticamente funziona così sentite ve le dico queste cose magari avete un'idea editoriale imprenditoriale ma in italia dubito che funzioni così il mercato del libro usato nonostante facebook nonostante il mondo scusate facebook oggi sono stanco nonostante il libraccio nonostante amazon nonostante come si chiamava subito che qua si chiama blocket l'equivalente di subito in italia si chiama blocket ci sono dei siti che si occupano solamente di libri e in questo libro questo qua cosa fa è a un contatto in contatto con quelli che svuotano le cantine sapete che qua le persone vivono ci sono un sacco di anziani che muoiono e i parenti si vogliono liberare della roba perché non è come da noi che i parenti ti devono lasciare un sacco di roba qua i vecchietti muoiono e le loro cose di casa mobili vecchi che non interessano a nessuno e libri vengono dati ai mercatini dell'usato oppure smaltiti così venduti all'incanto una cifra standardizzata e vengono acquistati e questo qua si è messo d'accordo con queste dite di svuota cantina e di traslochi di pulizie e questi quando hanno una casa e hanno una cassa di libri una cassetta grande di libri che costa 10 euro lo chiamano e gliele vendono dice che adesso i prezzi sono saliti anche un po quindi era un po scocciato ma questa cosa cosa succede mi ha detto molti libri sono chiaramente ciarpame spazzatura roba invendibile ma mi sono capita dei libri che avevano veramente un valore cioè libri che mi ha detto di una di un'edizione di non mi ricordo cosa svedese di una prima edizione svedese del 1800 che ha venduto a cosa mi ha detto 15.000 corone 1500 euro mille mille o quasi 1800 euro al cambio e cioè iniziano a essere soldi mi ha detto il mese scorso è venuto questa poi ne ho venduto un'altra 1200 euro perché capite la gente mi ha fatto pensare a corso va quello va adesso sto parlando svedese sto pensando alla svezia del corso dick corso o dean corso non mi ricordo più come si chiamava nel libro l'hanno una porta quello interpretato da johnny depp nel film di polanski che arrivava a lei prendeva il don quixote di barra lo prendeva a uno sputo a un pezzo di pane poi l'ha rivenduto a cifre pazzesche la stessa cosa fanno questi con l'ignoranza l'incompetenza la non conoscenza di qualcosa è sempre uno svantaggio ricordatevi più cose sapete meglio è perché poi arriva a corso vi prende il don quixote di barra per mille euro invece valeva un milione di euro quindi questo era solo un racconto quindi capite come ci sono queste cose dei libri usati che a me piacerebbe un sacco fare e ve l'ho raccontata semplicemente perché questo tipo mi ha detto mi sono messo a vendere i libri perché a un certo punto ne avevo così tanti in casa che mia moglie mi ha detto se entro un altro libro in casa esci tu e allora lui si è messo a vendere i libri e però mi ha detto invece di averne di meno ne ho ancora di più perché ho 35 mila volumi in casa perché chiaramente li vende però insomma la moglie penso che non sia scontenta dopo che ha tira giù 50 mila euro all'ordine all'anno da affiancare la pensione quindi insomma sono soldi con una cosa che potrebbe essere niente invece avete visto la svezia è un posto meraviglioso per farvi un po di rabbia vi dico che il codice isbn con svezia è gratuito e che lì va sui libri mi sembra sia al 4 al 6 per cento per cui insomma è un posto dove la cultura ancora o meglio la cultura i libri perché il libro non è necessariamente cultura anche se le due cose vanno spesso di pari passo dove i libri hanno ancora un valore dove sono ancora venduti il mercato è florido ci sono una marea di scrittori svedesi che ogni anno escono nei supermarket ci sono chilometri tonnellate di libri thriller chiaramente o libri romance scritti da svedesi che invadono i supermarket in continuazione sono questi espositori pieni di pire di libri di svedesi evidentemente vengono vendono io non vi so dire comunque francy sai su un altro di quei nomi che ho conosciuto parlandovi della storia del giallo mondadori l'omicidio è un affare serio e pare che questo sia veramente un ottimo un ottimo libro francis hiles se non mi ricordo male era amico di no quello era un altro era jaffi francis hiles comunque è questo so che è veramente un buon libro comunque so che è veramente un ottimo libro tra l'altro l'omicidio è un affare serio che era basato su un fatto di cronaca e il sospetto del 32 vediamo questo deve essere lo stesso degli anni 30 del 31 francis hiles del 1931 insomma capite sono quei libri del giallo classico questi della polillo sono sempre di quel periodo lì però insomma questi titoli che so che sono garantiti o che sono stati sono saltati fuori in qualche modo quando parlavo della storia del giallo li prendo a scatola chiusa prima o poi li leggerò tanto per cambiare un altro polillo questo è un autore di cui ho parlato in un video che ho regalato a pietro giovani ho parlato della statua che urla che è un libro meraviglioso da cui dario argento ha preso il suo luccello dalle piume di cristallo ispirato non è la stessa storia ispirato a la sota che urla il bicchiere della staffa la notte della la notte dello psaico ci sono alcuni titoli fantastici di freddick brown io li ho letti in ebook qualcuno l'ho comprato questo non lo conosco il visitatore che non c'era frank freddick brown io lo compro a scatola chiusa freddick brown che tra l'altro ha tra le cose più belle che lui abbiamo i prodotto sono gli short short ovvero i racconti ultra corti racconti di una pagina quelli che si leggono in un minuto e ne ha un paio che si chiamano la sentinella sentine mi sembra in originale e un altro che si chiama la risposta che sono racconti di una pagina di una bellezza freddick brown bravissimo in un elemento in una cosa che lo caratterizza che era il ribaltamento il colpo di scema il plot twist come si chiama in inglese veramente c'è il ribaltamento del del plot c'è della trama un ribaltamento della trama che caratterizzava i finali di freddick brown che sono eccezionali è uno scrittore guardate io lo so vi consiglio sempre quelli che porto che mi piace parlare di cose che valgono la pena alcuni possono essere discutibili o quando sono cose che sono veramente da giallisti incalliti duri e puri ve lo dico le tre bare ci sono dei libri che sono da lettori di gialli o libri to cure che sono non necessariamente dei libri fenomenali ma che hanno una loro qualità quelli quando vi dico veramente questo un libro imperdibile è veramente un libro imperdibile freddick brown se non lo conoscete vi si aprirà un mondo uno scrittore eccezionale leggetevi racconti di fantascienza io tra l'altro quelli li ho trovati in ebook non mi ricordo il titolo delle raccolte sono due volumi di uranio di raccolte di racconti usciti mi sembra per urania negli anni 80 non mi ricordo neanche più perché sono cose che ho letto un paio di anni fa e non ho memorizzato questi dati ma sono bellissimi ci sono dei racconti che sono fantastici c'è un'idea c'è delle idee questo freddick brown che sono qualcosa di eccezionale quindi per non parlare di quelli gialli perché freddick brown fred brown era conosciuto per la fantascienza ma moltissimo anche per il giallo la statua che urla ve lo raccomando la note dello psycho il bicchiere della staffa sono libri meravigliosi e infine un altro titolo famosissimo di john dixon car gli occhiali neri che è con protagonista adesso ve lo dico perché anche questo l'ho letto e sono appunto queste con gideon fell con gideon fell di cui vi ho parlato appunto nelle tre bare che un video che sicuramente è già uscito quindi occhiali neri di john dixon car che ho già letto in ebook ma certi libri li voglio avere poi queste edizioni della polino mi fanno impazzire quindi le le prendo quando le trovo la scatola è vuota ma siccome qua siamo in svezia e siccome oggi è sabato sono andato al mercatino che sta iniziando a riempirsi di roba di natale anche se siamo al 9 di novembre qua dopo halloween partono le cose di natale anche prima già fine a metà ottobre c'erano già addobbi di natale in vendita c'è gente che ha già fatto l'albero siamo al 9 novembre quindi capite i miei vicini hanno l'albero per esempio quindi i mercatini sono invasi da questa pacotiglia natalizia però io vado e quando vado cerco sempre nei libri non nei libri io in svedese non leggo perché è una fatica ma ho trovato questo libro in un espositore messo in evidenza perché questo libro particolare che ha a che fare col natale si chiama svart advent cioè avvento nero l'avvento non li siamo nel periodo di natale le quattro settimane che siamo loro sono nel periodo di natale l'avvento nero svart vuol dire nero ed è una raccolta di racconti perché si tratta di un tra l'altro un libro in brossura in copertina rigida questi svedesi hanno questa goduria per la pubblicazione in edizioni di lusso che vendono evidentemente vendono molto ed è un libro di una 400 pagine circa tra l'altro sveri e stads missioner che sono tipo la salvation army una cosa del genere cioè sono anche questi mercatini che fanno beneficenza e questo libro l'ho comprato non tanto per leggermi tutti i racconti in svedese perché vi ho detto in svedese mi viene fatica a leggere nel senso che capisco a parte alcune parole che esulano dalla mia area di utilizzo delle parole quelle chiaramente lo svedese tecnico medico scientifico lo conosco alcune parole le conosco se ci si sposta in aree semantiche particolari in aree tematiche particolari come può essere la politica l'agricoltura gli animali eccetera è molto difficile capire quindi non tutte le parole sono intuitive da capire per esempio oggi parlando con le mie bambine ho letto una frase di un compito che avevano da fare a casa e hanno usato un verbo che significa mangiare col cucchiaio tipo il latte o i cereali col cucchiaio mangiare col cucchiaio normalmente si dice etta mangiare invece c'è questo verbo che vuol dire esattamente mangiare il latte col cucchiaio il latte o lo yogurt i cereali col cucchiaino da una ciotola che è un verbo che io chiaramente non conoscevo perché non si usa e mi ha detto mia figlia mi ha detto sì questo è un verbo che si usa solo nei libri non lo trovi comunemente non lo si dice e quindi io non leggo in svedese vi voglio dire non leggo così tanto perché non trovo la bellezza posso capire posso aumentare il vocabolario ma non colgo la bellezza che è quello che mi interessa quando si legge che è una cosa sbagliata che potrei aumentare molto il mio vocabolario ma chiaramente quando uno sta 9 ore 10 ore al giorno bagno maria nella lingua poi torno a casa e vorrebbe anche un po' staccare il cervello come dicono le persone me lo stacco in modo diverso cioè leggendo cose che mi piacciono in italiano e cercando di stimolare il cervello ma in un altro modo ma insomma la sto facendo lunga l'ho comprato questo libro svatavent perché c'è una parte introduttiva di una ventina di pagine on svensk criminal literature che vuol dire sulla letteratura criminale svedese la criminal literature chiaramente è la letteratura gialla come la chiamiamo noi e quindi c'è un preambolo di 20 pagine che parla della letteratura svedese di letteratura gialla svedese questo è un testo del vi dico anche di cannoè 2014 2015 quindi abbastanza recente e insomma ci sono un po di c'è una sorta di saggio di introduzione una prefazione che parla del giallo in svezia e quindi l'ho comprato perché questo libro mi ha colpito c'è chiaramente stig larson in grande perché il nome di grande richiamo osa larson ho alle valo ci sono chissà che raccontano messo di qua alle valo se siete curiosi ve lo dico anche perché sono curioso anch'io e non l'ho sfogliato come si deve perché l'ho preso dal mercatino poi ho fatto un sacco di roba ho sistemato un po il giardino ho potato l'albero di pere non so se si dovesse fare in questo periodo ma forse si vediamo cosa c'è multimilionare il multimilionario sicuramente c'è nella raccolta terroristina che ho i terroristi che ho nell'edizione della della sellerio comunque svart advent un libro di cui forse leggerò qualche racconto perché per esempio quale valo ce l'ho che libro l'uomo che ando in fumo forse in lingua originale ho provato a leggere le prime parti si capiscono le capisco senza problemi però perdo la la bellezza della lettura nella mia lingua chiaramente che è un compromesso che una traduzione insomma e comunque questo è l'ultimo libro trovato al mercatino di cui vi ho parlato perché anche se non era un unboxing era comunque un usato che è arrivato a casa oggi insieme a questo pacco che aspettavo da tempo e che mi è arrivato ieri quindi l'ho ritirato oggi ve ne ho parlato e quindi questo è un video estemporaneo che pubblico il giovedì perché sempre per dire le cose come stanno per fare un po di conversazione sono indietro con i video da pubblicare il giovedì e quindi un po riempio la programmazione con questi video spero che vi faccia piacere non li pubblico più a mezzanotte a luna perché dovrei montarli sono stanco morto non sto riuscendo a scrivere come vorrei sto scrivendo altre cose sto rivedendo ho cose in ballo che verranno pubblicate adesso a fine mese tra l'altro andrò a milazzo perché come come vi ho detto come ho pubblicato nella come si chiamano nella community come si chiamano questa cosa di youtube sono con un romanzo finalista nel milazzo crime book festival la prima edizione per romanzi inediti ho scritto valla sapere com'è com'è la vita sentite ho scritto in quanto tempo sarà almeno tre anni fa mia moglie si è uscita è siciliana chiaramente mia moglie si è uscita mandando un mio video dove parlavano di queste gelsominaie di milazzo che erano le donne classicamente donne e ragazze giovani ma anche bambini ragazzini che andavano di notte a raccogliere i fiori di gesso mino che venivano portati nelle distillerie che c'erano nel capo milazzo a capo nel capo di milazzo nel promontore di milazzo per estrarre gli oli essenziali da madara graz per ottenere lo chanel numero 5 e questa cosa non la sapevo mi si è aperto un mondo iniziato a sentire documentari e chiaramente su youtube testimonianze di vecchie gesso minaglie ci sono un sacco di storie c'è la rabersagliera chiamata così perché era una che aveva fatto una sorta di sciopero una rivoluzione c'è tutto un mondo di storie dietro queste cose qua che adesso io non vi racconto e non ho messo chiaramente tutto perché non ha senso mettere tutte queste cose però questa cosa della notte della raccolta dei gesso mini le ragazze i come si chiama i i caporali che facevano capo appunto una decina di decidozzine di una decina una dozzina di raccoglitrici mi è partita la scintilla noire ho scritto questo noire documentandomi un sacco sulle gesso minaglie scrivendo di milazio degli anni 30 perché negli anni 30 37 in quel periodo là si ambientano queste storie quindi siamo anche in un periodo legato al fascismo milazio prima produceva vini da taglio per tagliare gli champagne che venivano lo stesso mandati in francia ma poi hanno visto che non conveniva più quindi hanno iniziato a produrre i gesso mini insomma c'è tutto un mondo dietro queste cose qua e siccome mia moglie mi ha dato mi ha mandato questo video di una di un documentario che c'era sulla rai probabilmente lina verde una di queste cose qua ho beccato il documentario l'ho sentito e mi è partita questa scintilla e quindi ho scritto questo libro due tre anni fa forse addirittura l'ho scritto 2024 2021 2022 l'ho scritto forse e questo mia figlia che bussa e questo romanzo è fermo l'ho fatto editare dalla mia editor di fiducia quindi un romanzo ho fatto il finito che è ho provato a mandare aglio scrittore e chiaramente chiaramente non è passato l'ultima edizione di io scrittore del 2023 mi sembra quella che sta finendo adesso nel 2024 scusate non è piaciuto perché non è un romanzo da io scrittore un romanzo un po complesso su due linee temporali non è lunghissimo sono un 180 mila battute quindi fate conto quante sono un centinaio di pagine alla fine perché 20 mila battute sono più o meno una pagina va bene una cartella corrisponde prima una pagina quindi 180 90 95 100 pagina seconda impaginazione 120 un romanzo breve racconto lungo come lo volete chiamare anche se di dimensione un romanzo che la dimensione che a me piace di più su due linee temporali insomma una storia un po particolare chiaramente un noir non un giallo più non c'è una vera e propria indagine l'indagine parallela ma non è una cosa che che importanza nella soluzione del caso si sa da subito chi è l'assassino e chi è la vittima e cosa succede ma appunto è un noir che è quello che piace a me scrivere quando sono libero da concorsi del giallo dove si è obbligato a scrivere gialli wudani questa roba che a me non piace ma lo faccio perché voglio voglio cercare di arrivare come sono arrivato al giallo mondadori quest'anno col cattolica ma insomma è un noir è un noir che mi è piaciuto scrivere stavo cercando una collocazione per farlo pubblicare da qualcuno ed è in bilico se pubblicarlo in self publishing oppure no è stato tra i finalisti di questo milazzo oggi è il 9 novembre il 23 il 22 il 23 novembre ci sarà la finale io cercherò di farvi un video una cosa live adesso vediamo come sarà un montaggio come quello che ho fatto per cattolica e vediamo come andrà se lo pubblicheranno i fratelli frilli sarò molto contento se non lo pubblicheranno in qualche modo ve lo farò avere perché è una di quelle storie che mi è piaciuto scrivere è un romanzo di cui sono molto contento per come l'ho scritto una bellissima storia la storia delle gelsominaia la mia lo deciderete voi sei bella e questo romanzo deve vedere la luce che sia in self che sia con una case editrice comunque sarà questo romanzo arriverà magari nel 2025 che insomma ci sono già un po di uscite per non affollare troppo la mia produzione del 2025 nel 25 nel 26 questa gelsominaia vedrà la luce se non vincerà questo concorso vediamo io tengo le dite incrociate fatemi l'in bocca al lupo comunque questa è questa è la novità di questo mese di novembre di questo 2024 che mi ha regalato una sfilza di tanto ripeto siamo qui in chiacchiera mi ha regalato una sfilza di soddisfazioni dopo cattolica c'è stato giaveno gialla dove sono stato tre finalisti tra la decina finalista anche se non sono arrivato tra i primi tre va benissimo lo stesso perché tra l'altro il racconto anche questo un bel racconto sulla madonna del manganello che è molto interessante su insomma una storia che forse una leggenda metropolitana forse no che mi ha ispirato ho fatto un sacco di ricerche ed è finita su questa raccolta sempre quest'anno sono stato è uscito ve 11 deliti e qualche disgrazia del napoli 2023 poi cos'altro non ce l'ho qua ma ci sono 365 racconti noir thriller e gialli di de los digital dove c'è il mio racconto la limonata sono arrivato secondo al termini book festival con un racconto che verrà probabilmente pubblicato anzi sicuramente pubblicato da de los digital ho un romanzo con cui sono arrivato tra i 400 in 400 finalisti di scrittore che un altro divertismano un pastisce una cosa che mi ha divertito un sacco scrivere che probabilmente verrà pubblicata in odissea gialla così mi è stato detto quindi la prendo per buona sono persone affidabili sempre per de los digital quindi la versione digitale sarà con de los il cartaceo lo autopubblicherò io chiaramente in in cartaceo quando quando sarà quindi primavera estate ci saranno delle uscite adesso vediamo cosa succede con la gesominaia non voglio affollare il mercato tra virgolette le uscite troppe uscite nello stesso anno non vanno bene però vediamo vediamo cosa succede questo della gesominaia è veramente uno di quei libri di cui sono contento l'ho mandato anche al calvino mi hanno fatto una bella scheda di valutazione dove hanno scritto che era veramente un buon romanzo mi hanno fatto delle critiche su alcuni aspetti di certi personaggi che forse dovrebbero essere più approfonditi in un certo senso ma io ho veramente voluto farlo così non ho voluto fare una cosa troppo lunga perché non doveva essere troppo lungo sono contento dell'equilibrio che ho trovato a qualcuno non piacerà è stata una mia scelta chi me l'ha editato è stato molto contento insomma è un'opera di cui sono contento di cui sono orgoglioso poi ci sono cose che piacciono non piacciono questo lo deciderete voi ma io sono contento di come l'ho scritto quindi vediamo cosa succede adesso a milazzo e vi stavo dicendo il caso ha voluto che io ci avessi pronto questo romanzo tutto sommato della lunghezza giusta secondo me 180 200 mila battute la lunghezza giusta ti ho mandato un concorso che si occupa di nero e di crime a milazzo che è fatto a milazzo per cui ho detto se se non passa in finale questo non so non so non lo mando più perché vuol dire che non vale non è un concorso non è un romanzo da concorso è arrivato in finale vediamo come va vi farò sapere comunque grazie per essere stati qui stasera sono adesso è buio dalle 4 e mezzo 5 qui in svezia alle 4 e mezzo è quasi già buio alle 5 e notte perché insomma siamo in quella parte dell'anno noiosa passerà anche questa gennaio poi inizia a risalire la luminosità e la durata delle giornate grazie per essere stati qua a sentirmi parlare di questa scatola di libri quasi tutti polillo qualche manuale qualche saggio un libro di racconti in svedese ci vediamo sabato con una nuova recensione perché sabato sulle recensioni giovedì sono i video a tema libero a tema di scrittura a tema di riflessioni mie e ne ho fatto anche 3 o 4 mentre in viaggio con la prius una macchina rumorosa un sacco di rumori che ho dovuto filtrare ma ci avevo delle idee in testa avevano parlato vediamo se faranno schifo se non faranno schifo continuerò a farli perché mi diverte parlare mentre sono in macchina in un viaggio di 7 ore comunque ho parlato abbastanza ci vediamo sabato prossimo grazie